Ciao a tutti ragazzi, oggi è il 15 marzo, siamo a Mosca, oggi faccio un giretto per farvi vedere come crolla l'economia russa, visto che sul Tgcom hanno scritto che la gente qui compra il pane a rate, credo sia veramente vergognoso, oltre che controproducente, perché i giornalisti italiani si stanno tagliando le balle da soli in questo periodo qua, vedete che qui è deserto, non c'è nessuno, i poveri russi stanno mangiando gli avanzi, ovviamente questo non ha niente a che vedere con la guerra, perché questa è una cosa che riguarda la comunicazione che gli italiani, i giornalisti italiani danno sulla Russia, questa è la comunicazione, sono le 4 di pomeriggio, ok, quindi neanche l'ora di punta, e questa è la situazione, ok, giusto per, guardate, Burger King aperto, pieno, i negozi, i ristoranti, tutto aperto, tutto, tutto aperto, mi dispiace solo che in questo piano non ci sia un McDonald's, sennò vi facevo vedere che era aperto, ma in questo centro commerciale non c'è, ok, buona giornata.